Venga raga qui Robby e oggi andremo a fare una cosa molto bella Questo è il primo video del 2019 Auguri a tutti quanti perchè lo scorso video era il prequel e il sequel di quello della cioccolata Che è uscito adesso, proprio adesso Perchè oggi per me è mercoledì, questo video uscirà sabato E visto che mi serviva questo video ho chiamato al rapporto AlexNCP E il mio beatmaker è anche mio amico Beatmaker è un cazzo perchè non abbia fatto nessuna canzone E quindi questo vuol dire un bel video in macchina Ciao Ok raga ci siamo, siamo in macchina Ce la farà questa scatoletta minuscola dove non c'entro a portarmi a destinazione Chi lo sa, lo scopriremo soltanto vivendo Ok possiamo accenderla, siete pronti al rumore? 3, 2, 1 Ah sembra un trattore, vibra tutto, guardate questo come vibra Ci siamo, cinture allacciate e si parte, vai Andiamo a fare, oh my god Non è entrata la marcia, ma che pilota merdosa sono Non so quanto è illegale tutto questo, quindi ci vediamo fra un po' Salve Salve Molto probabilmente non capirete un cazzo Però vado a fare una cosa là Venite con Salve 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 Oggi faccio aiuto Che sta di qua, quanti chilometri sta? 12, 13 12 chilometri, andata e ritorno Prima delle 6 Ce la faremo? Dove passo pure a casa a prendere il portafoglio Che sto senza patente Sto guidando poi Quindi ci vediamo in viaggio Ciao Ok, siamo quasi arrivati Poi, guarda, non siamo morti Riuscire a tornare a vivi Chi lo sa Comunque, abbiamo visto No su Ok Abbiamo visto le offerte del back E niente Io non c'ho raffa E non mi va di scaricata Mentre lo so E si chiama la vita tutti i giorni noi Noi delle strade Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ho chiamato una sportellata Stamai che in acqua a fianco Comunque, come usciamo adesso? C'è un c***o di cavallo Con il carrello È una prateria È un... È un santo protettore Comunque, c'è una fila della madonna Là al drive Che è enorme Ho appena inquadrato una targa Denunciate Ragazzi, stiamo tornando a casa Alla velocità della luce Eeeh Ok, ragazzi Sono appena tornato a casa Aspetta che alzo le luci Vai Sì Sono illuminato Quindi spero che questo video Anche se è corto Vi sia piaciuto Perché è durato tre minuti e qualcosa Passate qui sotto In tutti i social Nella descrizione Especialmente Instagram E seguitemi anche sulla pagina Facebook Perché ricominciano i membri fra poco E quindi io vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao